sull'esistenza di altre forme di vita ancora non ci sono certezze ma dallo spazio potrebbero arrivare ben presto altre forme di internet almeno questo è l'intento della compagnia newyorkese media development investment che sta costruendo alternet un web libero e gratuito basato su una flotta di minuscoli satelliti cubici ed economici chiamati cube sat creati per ritrasmettere in un loop continuo i contenuti ricevuti da stazioni terrestri il progetto muove dall'assunto che l'accesso alla conoscenza e all'informazione rientra tra i diritti umani eppure viene disatteso in molte parti del mondo secondo i dati della società promotrice infatti solo il 60 per cento della popolazione terrestre può accedere a una connessione al web senza limiti o restrizioni